Buongiorno, buon lunedì mattina Allora, io sono a casa perché abbiamo fatto il ponte per il 25 aprile quindi stamattina mi sono svegliata con calma, sto facendo un po' di cose anche se la casa l'ho pulita fondamentalmente sabato, quindi sono ancora a posto ieri volevo girare un video ma in realtà non ce l'ho fatta perché ne ho girato un pezzettino ieri mattina e poi ho spento la telecamera perché mi è venuta un'emicrania pazzesca ma penso che sia dovuto perché sabato siamo andati a una festa, c'era un po' d'aria e mi ha beccato proprio al collo avevo anche i capelli legati quindi mi ha beccato al collo probabilmente siccome avevo lavato i capelli poco prima di uscire non erano magari completamente asciutti, magari sono rimasti un po' umidi e mi ha preso il collo quindi mi è venuto un attacco di cervicale pazzesco che sono stata a letto praticamente tutto il pomeriggio col mal di testa poi mi sono alzata che era già tardi, erano già quasi le 8 ho cenato qualcosa, ho mangiato qualcosa così al volo abbiamo cenato ma veramente al volo e poi piano piano mi sono ripresa però mamma mia una botta pazzesca adesso sono ah no mi sembrava suonasse il telefono adesso sono a casa volevo andare a fare un po' di spesa, andare a comprare la carne per domani ma probabilmente andrò tornando da Milano perché mi ha chiamato una mia amica una collega delle elementari dicendomi che se ero a casa che aveva voglia di venermi a trovare, a prendere un caffè quindi gli ho detto di sì e ovviamente però questa cosa mi ha un po' scombussolato i piani perché non riesco ad andare quindi al supermercato ma cercherò di farlo di farlo poi oggi tornando da Milano allora vi ho postato anche su Instagram i cuscini che ho tolto dal divano ho messo in camera da letto perché volevo riprendere un po' di lilla quindi sabato ho fatto questo cambio e vi sta piacendo tantissimo in effetti stanno bene forse stanno ancora meglio in camera da letto perché sono molto romantici come tipo di cuscini e quindi in camera da letto sono un pochino più adatti però li sposterò tanto come vi ho detto il copro piumino io lo cambio spesso quindi in base a quello che vado a mettere decido poi se spostare i cuscini di qua o i cuscini di là qui ho mantenuto gli stessi ho aggiunto solo quelli originari del divano che sono quelli grigio antracite questi qua perché mi piaceva l'idea di avere più cuscini sapete che io ho la passione per i cuscini ne ho mantenuto uno di questi lilla l'altro l'ho messo in camera però volevo questo tocco di lilla adesso sono un po' così perché ieri sera non li ho sistemati però questo tocco di lilla mi piace tantissimo perché trovo che stia molto bene anche con il nero col bianco con il legno del pavimento quindi è un colore che scalda è un colore che mi piace poi è la moda di questa primavera e quindi avevo voglia di un po' di colore perché già ho il bianco il nero il grigio durante l'anno adesso in primavera volevo qualcosa di colorato e devo dire che il lilla con questi accostamenti di colore sta molto sta molto bene allora ho appena sentito l'interior design per la storia del muretto perché giustamente lei aveva valutato l'opzione di levare la cassetta dei fili e spostarla come avevamo pensato all'inizio però parlando comunque con Mauro ci siamo resi conto che diventa diventa troppo un problema perché comunque dovremmo fare intervenire l'elettricista che per carità è il meno dei problemi perché l'elettricista è il cugino di Mauro quindi lui ce lo fa assolutamente con piacere senza problemi però diventa veramente un lavoraccio quindi niente ho pensato con lui ne abbiamo parlato poi anche bene ieri sera di mantenere questo pezzo di muro questo pezzo di muretto che comunque questa parte avrebbe avuto la parte dietro della cucina rivestita con delle cose particolari poi più avanti vi farò vedere però abbiamo pensato invece che mettere il pannello della cucina con questa cosa di lasciare il muretto tanto l'effetto visivo è lo stesso cambia solo un piccolo particolare ma comunque questa sorta di murettino ci sarebbe stato anche perché Mauro all'inizio avevamo valutato di buttare proprio giù tutta la parete lasciando solo questo pezzettino però Mauro non faceva piacere non faceva impazzire questa cosa perché avendo l'ingresso in salotto lui diceva ci vuole un minimo di movimento e per noi sono comunque fondamentali anche i pensili della cucina quindi se noi avessimo tolto questo pezzo qui di parete ci saremmo mangiati dello spazio in realtà abbiamo proprio bisogno di quello spazio lì quindi non non ce la siamo sentiti di tirare tutto giù tanto comunque la cucina arriverà adesso non vi dico proprio bene dove e avrà un movimento quindi di spazio ne abbiamo noi non abbiamo i pensili come sapete e quindi abbiamo bisogno assolutamente di mobili base perché se no non sapremmo dove mettere la roba la cucina comunque è grossa perché tutta la parete qui è comunque 4 metri più ancora questo pezzettino qui però se noi andiamo a mangiarci questa parete qui non abbiamo poi più dove mettere tutto il necessario per la cucina quindi quella parte lì ce l'avremo sicuramente bisogno l'unica cosa che non potrò più tenere lì il bimbi è la frigitrice d'aria perché sarà in una maniera un po' particolare quindi lì non potrò più tenere i miei elettrodomestici però pensavo di mettere poi il bimbi qui sopra la mensolina e quindi il bimbi riesco a sistemarlo e la frigitrice ad aria ho già in mente dove però devo ancora studiare bene quindi questa è la soluzione ideale per non mangiarci comunque parte della cucina che è importante anche se abbiamo comunque la dispensa che è molto grossa però è già completamente piena quindi io non saprei dove andare a mettere tutte le cose che ci sono di dentro non è che ci sia mezza cucina perché alla fine c'è solo una base però comunque vorrei mantenere il più possibile i mobili per poter metterci all'interno le cose quindi questo è l'ultimo aggiornamento di stamattina e quindi ci siamo sentite perché sabato le ho mandato un'email dicendole il mio dubbio quindi ci siamo sentite sabato perché le ho un po' esposto questo mio dubbio della cassetta dei fili e allora lei mi ha risposto stamattina dicendomi che mi avrebbe fatto altri disegni cercando di mantenere il muretto tanto l'effetto visivo è comunque come quello che mi aveva fatto lei senza senza quella parete quindi tenerla o non tenerla tanto l'effetto visivo sarà lo stesso senza un piccolo particolare che lei mi aveva aggiunto perché se no mi mangio un pezzo di sala non togliendo il muretto quindi l'unica l'unica cosa è questa adesso vi lascio perché credo che sia arrivata la mia amica e ci vediamo dopo perché andremo a Milano quindi credo di portarvi con me ho appena acceso il diffusore così profumo la casa io adoro profumare la casa tra l'altro devo cambiare i bastoncini del diffusore a bastoncino perché si sono inzuppati e il colore cambia quindi li devo cambiare all'interno del diffusore ho messo ovviamente il mio prodottino questo qui che è quello per il diffusore a bastoncino è nato per questo quindi in teoria in questo non andrebbe messo ma non succede niente anzi profuma quindi io lo vado a a inserire allora prima che arrivi la mia amica volevo farvi vedere finalmente la novità in giardino l'avete qualcuno l'ha già vista attraverso il link che vi avevo lasciato qui su youtube inerente al reel di instagram però siccome so che non tutte avete instagram ve lo faccio vedere mi sono dimenticata sabato ma niente ve lo faccio vedere adesso e niente così vi faccio vedere la novità in giardino allora ecco la novità abbiamo cambiato il tavolo e le sedie ho scelto questo qui perché tra l'altro è tutto sporco vedete c'è il prato l'erba del prato che Mauro ieri ha tagliato perché come vi ho detto non stavo tanto bene e quindi purtroppo non sono riuscita ad aiutarlo e l'ha fatto lui da solo e non aveva voglia di mettersi lì e pulire anche il portico quindi lo farò io tra poco abbiamo scelto questo tavolo qua guardate che è un tavolo in da esterno in ferro grigio chiaro 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 non l'ho preso bianco quindi ho scelto questo qui che è molto chiaro è un grigio chiarissimo e mi piace davvero molto e poi ho abbinato queste sedie qua che riprendono il legno del del pavimento e del taglio in legno che abbiamo fuori e soprattutto i colori perché abbiamo i plastri comunque di questa tonalità la casa la facciata il pavimento quindi ho voluto dare continuità per non fare tutto bianco perché le sedie c'erano anche total white però avevo paura che fosse poi troppo 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 bianco il bianco lo lasciamo in casa fuori volevo qualcosa di più di più strong e questo devo dire che mi piace tantissimo poi sono andata a metterci anche questo tappeto che avevo in casa avevo nello sgarbuzzino dove abbiamo la scala che va in mansarda che è verde che riprende il colore del prato e il divanetto che abbiamo di là i cuscini quindi questa è la novità abbiamo messo sei sedie prima invece ne avevamo solo quattro adesso invece abbiamo deciso di metterne due in più e invece in quest'angolino qui abbiamo aggiunto questa lanterna che è sempre legno con questa parte qua nera anche qui per riprendere i colori quindi bene bianco verde legno e come vi dicevo il verde del tappeto l'ho messo perché secondo me va a sposarsi bene con i tappeti verdi i cuscini verdi del divanetto non so se vi ricordate vi avevo detto che l'idea era quella di cambiare il rivestimento dei cuscini però alla fine ci ho pensato e ho deciso di lasciare questi qua perché secondo me danno un pochino di colore e riprendono il verde del prato quindi non c'è quell'effetto tutto bianco tutto bianco tutto bianco ma va a comunque riprendere in effetti tanti di voi me l'han detto no fede non cambiarli no fede non cambiarli danno un po' di colore e riprendono comunque il verde che hai del giardino in effetti si poi abbinati con questi cuscini bianchi mi piace tantissimo infatti come vedete ho messo questi cuscini qua bianchi che secondo me riprendono il bianco del divano e stanno comunque bene però in effetti il verde dei cuscini riprende il contesto e quindi ho deciso di lasciarli così sono preparata noi stiamo per uscire lì c'è Ale vi faccio vedere cosa mi sono messa ma mi sono messa veramente molto easy perché andando a Milano metro e tutto volevo essere comoda allora ho rimesso il jeans questo qui che ho messo sabato che mi piace tantissimo anche se è morbido perché è comunque abbastanza largo però è proprio secondo me comodo da mettere se si vuole puntare alla comodità poi ho messo la camicia questa qui bianca e blu che avevo preso da Zara con questo spolverino che vi avevo fatto vedere che è becchissimo sempre blu con le all star bianche e ho messo questa borsetta qui di salome blu così oggi sono tutta tutta blu e andiamo siamo arrivati qua perché abbiamo l'appuntamento qua con la nostra amica a Tortona precisamente e quasi quasi se lei non è ancora arrivata magari facciamo un giretto qua da Kik che da noi non c'è ma ne sento parlare spesso io sono venuta solo una volta e non mi era piaciuto vi dico la verità però magari ritento vedere se c'è qualcosa di carino allora siamo appena arrivati a casa da Milano mamma mia che faticaccia a tutti altri perché siamo dovuti passare anche io e Alain l'esse lunga a fare un po' di spesa per domani che faremo la grigliata e avevo paura di trovare l'esse lunga chiusa invece ho guardato chiudeva alle 9 siamo arrivati da noi verso le 8 quindi abbiamo fatto in tempo però tutto veramente di corsa allora qui è l'acqua che ho preso a Milano allora ho preso due confezioni così di di costine queste qua poi ho preso due confezioni di no tre tre confezioni di salsiccia così una così e due no due così e una invece così e poi ho preso quattro hamburger per i bambini e due confezioni di salamelle ce ne sono dentro uno due tre quattro cinque quindi in totale dieci salamelle poi ho preso questo qui per il bagno perché l'ho terminato della Lenore no ambipur Lenore si poi ho preso le fragole per noi il pochè per me per cena perché l'ho visto e mi asperava poi ho preso gli granocchi che non trovo sempre invece le selunga le ho trovate che sono buonissimi questi qua con il sesamo secondo me sono i più buoni poi ho preso una confezione di olio extravergine di oliva e per Mauro quando tornerà da calcio ho preso il pollo arrosto allo spiedo così metà con le patate al forno così poi gliele scaldo e quando avrò a casa da calcio perché gliele a casa quindi gliele gli do magari ancora una scaldata questa roba qui la metto in frigorifero tanto dovremmo avere anche della carne in freezer se dovesse se dovesse mancare ma non credo perché secondo me ah c'è una confezione di schiedini e una difettina quindi non è che ci sia tantissimo metto la roba in frigorifero tra l'altro volevo fare il dolce allora questo qua lo metto in rin sì perché ho paura che poi mi riscava volevo fare il dolce per domani volevo fare la crema bimbi soltanto che la mia amica mi ha detto che farà lei il dolce quindi niente non non lo farò per non avere troppi dolci poi metto le fragole e poi tanto il tonno e questi qui non vanno in frigorifero quindi li metto questo lo metto nei lati spesa ok e questo qua lo metto di sopra poi dopo lo metto e ora mangio perché ho una fame pazzesca io mi sono appena messa a letto perché sono stanchissima la giornata di oggi è stata molto 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 pesante quindi mi sono già coricata Mauro dovrebbe arrivare ormai a momenti mi ha mandato un messaggio che sta per arrivare quindi mi toccherà alzarmi nuovamente comunque gli ho già preparato la cena come avete visto ho preso il pollo con le patate quindi mangerà mangerà così e basta io vi saluto così quando arriva corro e ci vediamo poi con un nuovo video ciao ciao ciao